Aumentano i contagi soprattutto nell'area metropolitana Pescara-Chieti con l'Abruzzo che rischia di tornare in zona arancione. L'assessore regionale alla sanità Nicoletta Veri non esclude interventi restrittivi mirati nelle zone dove si registrano in questo momento particolari problemi. I contagi sono in aumento specialmente nella zona costiera nella provincia di Pescara e di Chieti. Abbiamo avuto ieri un numero elevato. Anche oggi bisogna dire però che sono già in diminuzione. Stiamo portando avanti il tracciamento di questi focolai. Stiamo analizzando quelli che sono i risultati in modo particolare l'attenzione sulla variante che voi sapete è presente nella nostra regione. Abbiamo un numero importante e quindi stiamo verificando quelle che sono le procedure e stiamo mettendo in atto tutte le valutazioni del caso. Assessore, in questo momento alla base dei dati disponibili c'è il rischio del ritorno in zona arancione? Oggi è stato riunito il comitato tecnico quindi valuteremo in base agli indici, in base a quelli che sono i dati. Non parlerei di zona rossa ma parlerei anche di misure restrittive da mettere in atto in alcuni comuni e in alcune zone particolarmente colpite. L'ospedale di Pescara è andato in affanno nei giorni precedenti quando c'è stato un numero elevato di ricoveri positivi e del pronto soccorso. è in atto la rete emergenziale di tutta la nostra regione per cui subito si sono attivate le emergenze e hanno trovato ospitalità a questi pazienti in altre alz per cui adesso è una situazione gestita.